Don't stop me now! Continuiamo a fare il tifo per le farfalle olimpiche azzurre. Don't stop me now! Dopo il nuovo successo della giovanissima Sofia Raffaeli, vincitrice a Tashkent di Due Argenti, sulla 7 di l'ultimo appuntamento internazionale di Coppa del Mondo, prima della finalissima, in diretta dalla Vitri Frigo Arena di Pesaro, il 30 maggio, sulla 7. La terza tappa della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica sarà a Baku, domenica 9 maggio alle 10 del mattino. Seguila sulla 7D.